A Caltanissetta, la zona rossa, non ferma il contagio da Covid-19, chiusa la sede centrale dell'Inps e l'ufficio postale, così come scrive l'agenzia di stampa a Sky News. Questa mattina è stata chiusa la sede centrale dell'Inps in via Cavour perché ieri una dottoressa della Commissione Medica, già sottoposta a vaccino, è risultata positiva. L'altro ieri è stato chiuso a causa di una positività fra i dipendenti, l'ufficio postale del popoloso quartiere di San Luca. Anche al municipio la situazione è complessa dopo che sono risultati positivi 19 dipendenti, tre dei quali sono ricoverati.